Sempre meno calabresi ricorrono al vaccino, superata la fase dei centri abaffollati, anche se l'inoculazione resta l'unico antidoto al virus, intanto tornano a salire i contagi. Le decisioni assunte dal governo giudicate positive da Confindustri e Sindacati, anche se per la Calabria occorre fare molto di più. Ennesimo appello dei sindaci, completate la strada del medio savuto, sono 30 anni che aspettiamo, sarebbe una valida alternativa alle teremmi disfunzioni dell'A2. Si è incatenato davanti al Tribunale di La Mezza Eterna per protestare contro la chiusura della sua discoteca il 31 marzo per problemi legati alle misure anti-Covid. L'ex assessore al Comune di Reggio, Angela Marciano, incontra i giornalisti per affrontare i temi legati alla sua esperienza nel municipio della città dello Stretto, sostenendo che l'ente ha un debito di 700 milioni di euro. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in apertura i temi legati alla pandemia. I numeri dei contagi in Calabria sono ancora preoccupanti, anche se per fortuna la pressione sugli ospedali si è allentata. Intanto per quanto riguarda le vaccinazioni, flop della quarta dose, ma gli esperti consigliano di non abbassare la guardia. Complici le temperature tiepide, l'allentamento delle misure, via da ieri le mascherine, soprattutto all'aperto, nelle città anche in quelle calabresi si respira un clima di normalità, di ritorno al pre-pandemia. Ma i contagi, viste le nuove varianti, l'ultima la Omicron 4, scoperta a Reggio Calabria con il supporto dell'Unical, i contagi, dicevamo, hanno numeri ancora importanti, una situazione complessiva che, sottolineano gli esperti, non è da liberi tutti. La pandemia adesso è caratterizzata da che cosa? Da un elevato numero di casi, che la maggior parte però sono appunto casi abbastanza lievi. È diminuita la pressione sugli ospedali, soprattutto sulle terapie intensive, però nei reparti covid-ordinari rimane ancora una discreta presenza di pazienti, questo non dobbiamo dimenticarlo. La letalità si è molto abbassata, tuttavia anche in Calabria continuiamo a registrare, diciamo, ogni giorno un numero di morti che va dai 5 ai 10, quindi che significa che il pericolo non è passato del tutto. I medici di base potranno prescrivere già in questi giorni il farmaco antivirale orale contro il covid indicato nel trattamento degli adulti a rischio. Il farmaco arriverà in Calabria dopo il 10 maggio, ma la Regione ha deciso di utilizzare parte delle proprie scorte per rifornire depositi e farmacie. La campagna vaccinale intanto, soprattutto la quarta dose, non decolla. Abbiamo, questo a livello nazionale, dei numeri molto bassi, dei numeri del 10% di adesione. Ecco, questo deve farci pensare, evidentemente la vaccinazione non è più vissuta come una priorità. Tornano a salire i contagi in Calabria, ma con più tamponi processati. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati 2.284 i contagi registrati su 10.318 tamponi. Il tasso di positività sale al 22,14% e il Cosentino all'area dove si registrano più casi confermati sono 766, segue Catanzaro con 686. Diminuisce la pressione sugli ospedali, meno 6 in reparto per un totale di 251 pazienti ricoverati, meno 3 in rianimazione per un totale di 15 posti letto occupati. Oggi si registrano altri 6 decessi che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 2.515. Cambiamo argomento. Oggi la riunione del Consiglio regionale. È stata approvata la legge sul precariato storico. I lavori del Consiglio regionale convocato dal Presidente Mancuso sono iniziati con l'informativa del Presidente dell'Aggiunto Chiuto sulla vertenza Calabria da sottoporre all'attenzione del Governo centrale e sull'incontro che il Governatore ha avuto il 21 aprile a Roma con i segretari generali nazionali dei sindacati. A modernamento della 106, Porto di Gioia Tauro, zona economica speciale, zona logistica speciale, alta velocità ferroviaria, energie rinnovabili e sanità. Sono questi gli argomenti che hanno per larga parte caratterizzato l'informativa al Consiglio regionale del Presidente dell'Aggiunta. Non si può governare da soli, ha ribadito più volte o chiuto. Poi la discussione sui nove punti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio regionale. Tra questi la proposta di legge per la storicizzazione del precariato storico. Una seduta di Consiglio abbastanza proficua. Sono stati approvati dei provvedimenti importanti. Uno su tutti, quella del precariato, che dimostra come quello che ha detto Chiuto all'inizio legislatura si sta realizzando, cioè fino al precariato storico. Questo è uno delle parti del precariato. Noi dovremo intervenire anche su altro, come i precari della legge 12 che non sono più in servizio. Stiamo cercando la soluzione per poter far rientrare anche questi soggetti in una regolarizzazione e stabilizzazione. Poi è stata approvata un'altra legge molto importante, quella dell'istituzione delle case famiglie per soggetti giovani e minori colpiti dal provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ritengo che sia un provvedimento importante perché evita che tanti giovani calabresi colpiti da provvedimenti dall'autorità giudiziaria vadano a scontare i provvedimenti in case famiglie fuori regione, come sempre avviene. E quindi anche questo ritengo un provvedimento importante. Le decisioni assunte dal governo sono giudicate positive da Confindustria e sindacati, anche se per la Calabria occorre fare molto di più. La conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi, in cui ha annunciato il nuovo decreto del governo con le misure mirate a contrastare il caro bollette e calmierare i costi elevati dei carburanti provocati dalla crisi della guerra in Ucraina, limitare i danni, conseguenze del caro vita, con un bonus inoltre da 200 euro destinato a pensionati e lavoratori. I provvedimenti sono sufficienti, secondo il sindacato, anche per una realtà economica fragile come la Calabria. La misura individuata come bonus crediamo sia insufficiente, un fatto positivo ma insufficiente. Il governo ha dato segnali di apertura, ma i segnali di apertura poi devono essere correlati anche da misure concrete. Non ci sono risposte per le fasce sociali più deboli e soprattutto per i territori più deboli. In questo momento la Calabria rischia di pagare il prezzo più alto della crisi nazionale e internazionale dovuta sia alla pandemia che alla guerra e quindi bisogna che le regioni che sono il sud del sud come la Calabria possano essere sostenute con azioni mirate. Nel decreto ho previsti sostegni per le imprese, ma un'industria, sebbene approvi lo sforzo del governo, lo ritiene non adeguato alle difficoltà fronteggiate dalle aziende. L'impegno del governo è un impegno importantissimo, sono 14 miliardi e non posso dire che non sia un impegno importante. L'emergenza però è sicuramente di proporzioni estremamente grandi e quindi abbiamo bisogno di misure estremamente emergenziali. A questo bisognerebbe aggiungere misure come quelle che sono arrivate durante il periodo della pandemia, misure di tipo finanziario, per esempio una misura che ha funzionato molto bene, che è quella delle moratorie, potrebbe aiutare le imprese a non rinunciare ai propri investimenti. Credo che quindi il governo debba fare qualcosa in più. Ennesimo appello dei sindaci, completate la strada del Medio Savuto, sono 30 anni, dicono, che aspettiamo? Una semplice ricerca sulla rete svela tutta una storia lunga 30 anni della strada del Medio Savuto, un'arteria che doveva collegare di fatto Cosenza a Catanzaro, diventando una vera alternativa all'autostrada, ma ad oggi la strada non c'è e dei 35 chilometri previsti solo una decina sono quelli completati. La Medio Savuto, una strada incompiuta, una cattedrale nel deserto, Carpanzano ne risente da molto tempo, sono circa 30 anni che questa doveva essere realizzata, però è rimasta ferma con gravi problematiche che ancora non possiamo risolvere. È nato anche il comitato La strada che non c'è, che da anni si batte per calamitare l'attenzione delle istituzioni, tanti gli appelli lanciati, perfino al Presidente della Repubblica, ma non si va avanti tra ritardi, controversie giudiziarie e smottamenti del terreno e pensare che la strada servirebbe anche l'unico tempio crematorio del Sud Italia. Noi abbiamo un tempio crematorio del Sud Italia. Noi abbiamo un tempio crematorio del Sud Italia, che è l'unico nel meridione, che è funzionante all'avanguardia e che rappresenta per Carpanzano un punto cruciale per l'occupazione e per tanti altri motivi produttivi. Io spero tanto che la Regione Calabria possa accogliere questo mio appello affinché possano trovare un rimedio, un finanziamento che ci consenta di poter realizzare questa arteria che non è solo di Carpanzano, ma è della provincia di Cosenza, della provincia di Catanzaro e ne beneficerà soprattutto questi due capoluoghi che avranno un collegamento breve che sostituirà un'autostrada con mille problemi. E adesso la protesta di un imprenditore che si è incatenato davanti al Tribunale di Lamezia Terme per protestare contro la chiusura della sua discoteca. Franco Palmieri, imprenditore di Lamezia, mostra tutta la sua disperazione con questo gesto. Si è incatenato davanti al Tribunale per manifestare contro il sequestro della sua discoteca dopo un controllo della Guardia di Finanza. Il locale, che si trova a Feroleto Antico, dal 31 marzo è chiuso per alcune irregolarità nella documentazione amministrativa. Praticamente sono qua perché abbiamo subito il sequestro preventivo della nostra struttura. Stiamo chiedendo, visto che abbiamo presentato tutte le nuove documentazioni di sequestro, per poter tornare a lavorare. Fermo restando l'aspetto penale che seguirà il suo corso e che poi ci vedrà chiaramente di pronto ad altre decisioni, ad altri impegni. Rispettiamo con molta fiducia perché abbiamo molta fiducia nella magistratura, abbiamo molta fiducia anche nelle forze dell'ordine. Il fatto stesso che io sia qua in maniera molto semplice, tranquilla, pagata, è molto rispettosa nei ruoli di tutti quanti. L'imprenditore, vittima anche di alcuni furti in passato, annuncia di voler proseguire la protesta ad oltranza e di voler iniziare, se necessario, lo sciopero della fame. L'ex assessore del comune di Reggio Calabria, Angela Marcianò, incontra i giornalisti per affrontare i temi legati alla sua esperienza nel municipio della città dello stretto. Sentiamo. A Reggio Calabria, conferenza stampa che ha il sapore di un cambio della guerra nel movimento, quella odierna di impegno e identità. Filomena Iati si congeda da Palazzo San Giorgio dopo 18 mesi d'opposizione e fa posto ad Angela Marcianò, candidata sindaco che nel 2020 fu eletta in consiglio ma subito sospesa per un anno e mezzo ai sensi della Severino dopo la condanna a un anno di reclusione in primo grado nel processo Miramare scaturito proprio dalle sue denunce. Ridenuncerebbe. Io ovviamente sono coerente con le scelte che faccio perché non sono quasi mai scelte istintive ma sono scelte certamente di cuore anche di pancia ma che vengono da valori che vengono da una storia da una coerenza personale e familiare consentitemi di dire quindi ovviamente la risposta non può che essere positiva. Una valutazione in breve sulla legge Severino. Avendola studiata anche approfonditamente non posso anche da giurista non evidenziare che ci sono dei profili di legittimità costituzionale che in parte sono stati rigettati dalla Corte stessa ma che in parte sono lì ancora evidenti. Di fatto poi ho accettato ho accettato quella sospensione ho accettato immediatamente quella che era stata la decisione e poi l'atto dovuto da parte del prefetto e ho fatto tesoro. Per la sospensione dell'ex assessore ai lavori pubblici era toccato alla IAT entrare in consiglio per il movimento. Sono stati 18 mesi da barricadera 8 esposti alla procura denunce all'Anache e alla Gcom 103 accessi agli atti che hanno riguardato tutti i settori dalle partecipate al settore finanze in modo particolare sicuramente il bilancio è stato quello che ho più attenzionato. Qual è la situazione economico-finanziare del Comune? In occasione della commissione bilancio propedeutica all'approvazione dello schema di finanziamento Stato Comuni che si è tenuta lo scorso 8 aprile il dirigente consiglio mi ha detto che il disavanzo ammonta a 339 milioni di euro e il debito finanziario a circa 400 milioni per un totale di 740 milioni di debito. A Cosenza non si ferma la solidarietà verso la popolazione ucraina fuggita dalla guerra nella cittadella del volontariato la sinergia delle associazioni che si occupano anche di scuola e servizi. Nella cittadella del volontariato di Cosenza le associazioni impegnate a sostenere la popolazione ucraina in fuga dalla guerra in Calabria al momento secondo fonti dell'unità di crisi regionale ci sono 4.000 cittadini ucraini regolarmente registrati attraverso le questure per lo più donne minori che hanno trovato sistemazioni autonome la solidarietà però non si ferma come dimostrano le donazioni che continuano ad arrivare ci sono però degli enti che progettano il futuro e l'inserimento scolastico dei ragazzi noi come associazione scientifica Pitagora stiamo attivando il percorso per accogliere i ragazzi ucraini nella nostra scuola perché noi gestiamo anche una scuola superiore abbiamo avviato le procedure però ancora non abbiamo ricevuto nessun input attimo infine lo sportello gestito dall'associazione sociale ucraina Calabresi solidarietà aiuto libertà e origini aperto il martedì mattina e il venerdì pomeriggio fornirà informazioni e supporto sulle pratiche burocratiche a Reggio Calabria adesso dove è stato presentato il murales sui bronzi di riace un'iniziativa promossa dall'accademia di belle arti dalle gabiente e da rfi con il patrocinio di comune e città metropolitana è stato presentato questa mattina a Reggio Calabria nell'area del tempietto il murales tematico sui bronzi di riace realizzato in occasione della Corri Reggio 2022 un'iniziativa a 50 anni dal ritrovamento dei bronzi promossa dall'accademia di belle arti da legambiente e rete ferroviaria italiana con il patrocinio del comune e della città metropolitana di Reggio Calabria è qualcosa di importante anche perché se puntiamo sul turismo dobbiamo anche presentare una città bella elegante pulita in quest'area che tra qualche mese inizieranno i lavori di riqualificazione di quest'area di impietto che vorremmo restituire alla città fra qualche settimana verrà anche la ruota panoramica e come dire diamo anche questa parte centrale della città a tutti i cittadini io devo ringraziare anche l'Accademia delle Belle Arte che ha fatto anche questo murales mi auguro che anche altri posti della città possono essere come dire investiti da possono essere realizzati questi murales che può essere anche un percorso turistico come avviene in altre città La Calabria protagonista al Cibus di Parmal via oggi sono 22 le aziende calabresi presenti la Calabria prova a ripartire e punta sulle eccellenze territoriali per presentarsi agli operatori di settore e rafforzare il marketing territoriale sempre più legato al food and wine come marcatore identitario sono 22 le aziende calabresi presenti al Cibus di Parma in programma ad oggi fino al 6 maggio in vetrina le eccellenze agroalimentari del territorio questo vuol dire ripartire ripartire con consapevolezza con maturità e farlo soprattutto in un momento particolare essere qui rappresenta come sempre una grossa opportunità ma ancora di più in questi momenti difficili siamo venuti qui dalla Calabria cercando di portare proprio la tradizione della nostra terra attraverso i nostri prodotti la regione ha anche una postazione nell'area show cooking di Calabria straordinaria con gli chef Nicolo Ganci e Gianluca Ganci con piatti che focalizzano l'attenzione sui prodotti delle aziende espositrici abbiamo preparato una pasta tipica che sono i filea precolorati con la cipolla rossa di Tropea abbiamo usato una conserva che facciamo noi sempre di cipolla e dell'anduia è una pasta storica che viene fatta sin dall'antichità ed è una delle maggiori esponenti nel mondo della pasta vi lascio adesso alla borsa grazie come sempre per l'attenzione e buon proseguimento di serata le borse europee chiudono il rialzo e Wall Street procede sopra la parità cresce l'attesa per la riunione della Federal Reserve che domani dovrebbe annunciare un rialzo dei tassi di interesse pari a 50 punti base e un target intorno al 2,5% entro fine anno a seguire giovedì toccherà la Bank of England mentre gli operatori stimano 3,4 ritocchi da 25 punti base da parte della BCE nel corso del 2022 l'inasprimento della politica monetaria a livello globale è finalizzato a contrastare l'elevata inflazione alimentata anche dal rincaro dell'energia a seguito dell'invasione russa in Ucraina tuttavia la stretta delle banche centrali rischia di rallentare ulteriormente l'economia globale già colpita dalla guerra dal lockdown in Cina e dai conseguenti problemi nella supply chain il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto una telefonata di due ore con Vladimir Putin in cui i leader hanno discusso di Mariupol mentre la Russia ha scongiurato nuovamente il default tecnico rispettando il pagamento delle cedole in dollari relative a 2 euro bond per quanto riguarda i dati macro i prezzi alla produzione nell'eurozona sono aumentati oltre le attese a marzo a più 5,3% mese su mese mentre la disoccupazione tedesca è stabile al 5% ad aprile così il Futsmib di Milano chiude in progresso dell'1,6% bene anche l'Ibex 35 di Madrid ha più 1,7% più arretrati il Caccaranta di Parigi ha più 0,8% il tax di Francoforte ha più 0,7% il Futsi Centro di Londra ha più 0,2% oltre Oceano avanzano dopo un avvio prudente il Dow Jones ha più 0,6% l'S&P 500 ha più 0,9% il Nasdaq ha più 0,3% sul Forex l'euro dollaro recupera terreno riportandosi a 1,054% mentre il dollaro iene è sceso nuovamente poco sotto quota a 130% in ribasso le quotazioni del greggio con il Brent a meno 1,5% a 105,9 dollari e il VTI a meno 1,7% a 103,35 dollari sull'obbligazionario il BTP Bund si amplia a 191 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,87% tornando a Piazza Affari avanzano soprattutto Saipem a più 5,1% Tenaris a più 4,6% Leonardo a più 3,5% CNH a più 3,4% quest'ultima dopo i conti del primo trimestre in calo invece Ricordati a meno 2,4% Moncler a meno 2,1% e Amplifono a meno 1,4% che ha diffuso oggi i risultati grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight a a a a a a a a a i Autore dei sovrapposti